benvenuti anzi bentornati ragazzi su the space 3 sono sempre qui con l'isac falso il bionico perchè la mia vita è blu e quella di pretezzorina non e l'altra volta ci sono lasciati qui questa città dove la gente ci voleva molto bene non ho notato o merda isac ha sparando dall'alto ma il proletto e se ci sono altri isa che ci vogliono uccidere isa che diccelo aspetta proletti sai cosa faccio di solito su uom teca posso sparare non posso sparare ok posso sparare ma non posso più sparare volevo togliere la testa una persona guarda cosa so fare pruiz cosa sai fare vediamo come si fa magia lo so fare solo io cazzo non sono di spiegare ok allora ma questo forse ha avuto nato abbassati un attimo pruiz abbassati un attimo ma non funziona perchè abbassati un attimo ah lo so anch'io dimmi ah con control si ente abbassati un attimo qui rata ok ti ha pestato un piede andiamo avanti perchè abbiamo deciso che noi faremo le parti circa da un quarto d'ora per annoiarvi troppo sembrale e tirati della strada si bene come facciamo stasi 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 qui 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 ah giusto come si usa la stasi c'è ma dire non so fare non ho parole iiii vedi isa che colpa tua vedi vedi cosa convinti vedi è stato spore no è colpa tua questo sei sempre te che fai casino macchine cinesi no io non capisco perchè se da the space tutto debba andare alla velocità della luce cioè non ho capito sta cosa eravamo sulla milanomeda come si salgono le scale come si salgono le scale? ok grazie ecco ci sono due tizi mi sei dimenticato come si salgono le scale tranquilli l'ho fatto di fuori ci sono i tuoi piedi che mi bloccano grazie mi piedi hanno un buon odore però ammettilo aspetta che c'è roba scusa shantekler tranquilli oh munizioni vediamo un po' cosa c'è qui si vabbè rispetto all'uno qua di space 3 mi ha detto che le munizioni vengono dati come lost in chiesa ovvero a tutti e a tutto e tante e tante soprattutto beh dai almeno un problema non ce l'abbiamo guarda il lato positivo sai come andremo avanti noi prezzi così aspetta non è nemmeno ok aprite per il momento non abbiamo necromozzi non solo non non io ho un cadavere che si non si impalava no io non capisco allora siamo passati da sasso c'è un tizio che parlo non l'ho sentito le corporazioni alle quali abbiamo affidato il nostro denaro lo hanno sperato sta parlando alla legna i quali abbiamo affidato il nostro lo hanno distrutto stiamo morendo e mori me cosa stai facendo di bello ah e niente sto ascoltando un bravo questa tizia dai applaudiamo bravo diamo guarda così tatata tatata facciamo pure la luce quando applaudiamo c'è un discorso ok non c'è frega un cazzo va bene sei bravo tu vuoi aprono lui io capisco siamo passati da un'ottostra è infatti la nostra unità troveremo la salvezza noi continueremo a vivere non più uomo ma come un dio ah io ero 27 giusto la chiesa è giusto fruiz allora ti dico una cosa io non capisco perché anche qui sia un po' scusa aspetta eh alzo un po' impostazione audio che va bene nelle basse ma così non si sente niente ah e ti è tornata la voce dei personaggi poco volume voce mettiamo 10 lo affambagno volume musica effetti mettiamo 5 dai no non si sente niente eh si accetto oh così va molto bene dai allora tramita indietro io io allora al 3 te premi indietro io 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 smetto ok 1 2 3 pruiz al 3 al 3 l'ho fatto dai contiamo insieme abbiamo solo 15 minuti per parte isa allora andiamo avanti dai ho capito che ci vogliono ma io non capisco che siamo passati da un'autostrada a un punto pieno di morti a un cimitero questo posto è peggio di london non lo so ma guarda cosa cos'è visto? ah è nuovo che niente 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 dove bisogna andare? andiamo cosa dice il rig dice andare di qua e come si faceva il rig? provviso me lo son già dimenticato B B ah qui c'è un ascensore guarda uh hanno messo le curve rig niente figata eh io ti lascio qua no allora adesso siccome non ci soppii musichette sulle ascensore di at space la faccia io la musichetta a vera a papà 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 guarda c'è questo dovrebbe essere un gioco orro ma sarà tutt'altro con i due tra l'arrivo sa che carrioli contro la porta sa che faremo sicuro aspetta aspetta verso 8 10 ma che cazzo ha morto pruizzo salvatini salvo come qua e io sono morti e della seconda volta in due parti che i suoi personaggi sa nuovo poverino e viste rie che scendeva si clark kent dai fai qualche superpotere lana eh quella di minecraft si ma vuole fare un'altra invasione ma perchè sono tutti fuori di testa qua ma che ne so pc sia su restentivo che su the space di quanti così questo è il futuro guardiamo guardiamo cosa succede era una bomba atomica in realtà ha distrutto il marchio praticamente asimo da via l'infezione c'è la rinascita cioè tipo muori e poi prove e siamo caduti e ora vuoi sapere chi sono io tipo son l'anima di pruizzo e corpi c'è sentimento ti do una mano ad aprire le porte apriamo le scommesse ecco chiesto qua ok però te la via magicamente riappari nonostante fossi morto vabbè la logica di the space 3 si spiega da sola poi alla fine io sono un'immagine un'immaginazione oh poveroso tenor saipro oh guarda oh oh merda sì ah si ok che è un'esercizio la faccia per il calcio cooperosa medicina bairo ci hanno detto ora non ho fatto non ho fatto niente ma che cazzo questo è un buon tentacoli adesso aspettare aspetta nessuno è caduto un altro in fondo smegriamolo aspetta che devo ricaricare hai aperto e il panico stasi dopo ho mancato il tizio come si fa ad usare il corpo a corpo trepa bastardo muore così si come si usa il non lo so so come si usano i calci ma non il resto ah ok ah ok così pruizzi vieni qua vieni qua top ciappa eh come si fa o non lo so grigga senza mirare qualche bravo vetro hai qualcosa contro di me hao dopo ci divertiamo ai campi auto migliorno strano più munizioni non so cosa e cerco tutti confronto a adatto in questo campo fornire gli unscati al giocatore spetta di qui vedo d contenitori utili alla nostra dammina mano spaccare il vetro dovevo le carriere volchè abbiamo a بت mi ha messo il buon merito fancura il marchio è un'altra cosa continua ciao proietta cosa stessa che si può calderà di un calcio la porta la serratura non ci sono nemici nello aspetterei di perché diventato tuttora eo a livelli ma edizione quant'era bella sta città prima che la testa gana numero antitretirano exacto su tutto haston bambu papa fa� canada se puoi lasciarmi la storia ci penso io arriva il seems parts apporto deficienti di fila ipad era di trovare mai più prezzo anacinao grazie mille value un paio d'avventura no lasciami pure nell'avvento ti auguro che screpo io per i primi e voglio vedere la neve torcedo io adesso il nuovo video ha detto anche la neve faccio vedere gli occhi degli obiettivi aspetta gli amici ho fatto male a mano il primo pancone io succede essere dispensa la sua folle su qualcosa c'è notti mi conosciuti con un kit medico mi trovo già diventario pieno oltre l'inventario più e c'è chi rendi conto isabella è un po' di roma anche a me scusa c'è indespris 3 c'è 1 per l'inventario più e solo ok andiamo a proizzo per fare allora un'altra musichetta pronta per essere avviata lascia stare meglio danni che mi ha tospa devo sempre dire cazzo sono un suo figo cazzo hai capito cazzo porca puttana c'è corso del cazzo figli di cazzo i di 4 cazzo stai teletrasportando prospettando si avevo notato in merito che è stato a vedere da isa con santa e trasporto si è vero no perché ci hanno chiuso dentro ti vogliono così male c'è una gabbietta per gatti è un kit magico aspetta c'è una porta quanto bruizza no perché ci ho chiuso dentro qua o c'è un terminale qui credo che sarebbe no non funziona no non funziona no c'è un coso per come si fa saltare o corna ah guarda ho trovato la via d'uscita di qua ne ho visto anche io però devi pagare il pedaggio va bene aspetta tieni ahia ok ok no ma perché siamo finiti in una discoteca colpa tua vedi sempre colpa tua isa no questo è il minacciare il nome di me ah lo sapevo che era il mio nemico ah no perché ci vuoi così male no cosa ti abbiamo fatto basta togli di provizza ci penso io mamma mia strana strana di me come un razzo nello stomaco ma se stiamo sparando delle cose al plasma vabbè stizio qua se lo è il casco figlio io c'è ancora la faccia di me bellissima diretti siccome su the space non l'hanno fatto a vedere abbastanza siamo diventati il treno maraic ma ora guarda dopo quelli qui sono troppo gli alti i poi sono l'olto le sacco cazzo sei notte comunizioni del testo cazzo che ce ne sono tante non esprimere un po' da dietro vieni qua a fianchi la cosa bella è che ah no è vero perchè c'è il lago ok non pareva strano che perdono la testa dopo aiutami il progetto sta morendo non morirà ok stasi c'è però che colpiscono la stasi sono davvero il tuo compagno è morto poi che cazzo siamo già morti ok allora sappiamo che qua c'è un bel tempo non posso usare la prima arma allora siamo gli unici che sono morti i primi secondi del gioco e allora sai cosa fruizzo a domani ciao no non andarti senza rimanere è pieno di gente qui scherzo non tornare non seguirmi non seguirmi non seguirmi tanto io sono già impegnato qui oh ma vuoi crepare un po' te so ti piglio carci della morte voglio bene ma stasi ok io sto scappando oh forse no sei da me ok io sono dove sei faccia fatica a colpire gli arti in questo gioco sai aiuto aiuto ah pruizzo ti dico una cosa che non sai fluido mi dai una mano vabbè tranquillo riesci a fare ok visto cosa succede quando tu mi lasci da solo vedo se c'è un tizio senza mano allora tu non hai scoperto qual è il potere secolo è presente che ogni arma su dead space ha un potere secondario no? si non hai scoperto qual è il potere secondario della pistola impulsi ah dove sei? eh qui io sono andato dietro lo visto vietaio vietaio voglio un biglietto per il treno vietaio ok lo frego io il biglietto no cattivo che sei un altro ascensore pronti per un'altra musichetta ahia il telefono dice tempo scaduto isaac ah niente da fa 5 minuti bonus va bene dai 5 minuti bonus facciare che non fare i video precisi ok fa niente no vabbè da questo le prime parti sono fa il duramento un po' di più non lo so forza dammi una mano cosa? a fare questo questo è uno scalo possiamo riattivare uno di questi treni trovalano comodi guarda pruizzo gli armandietti eh ma io con l'abito chiesto tizio quali cittadinanza con me non lo so ah la telecinesi guarda fantastico come si usa? f eh raggio cinetico isaac ok lo uso io ah lusita non investirmi pruizzo amore che figata isaac ti muovi ciao pruizzo ciao giro giro tondo si copresa nel prezzo giusto allora deve andare di qua non lo so non lo so si credo di sì se staramo mi ricordo tanto il livello 1 d nella parte 11 di tombraia e per i treni lol inferma si muove ancora ora sono io che si muove il carburante bravo non lo so non si muove non si muove non si muove ma è così pro in suarca io sono più forte di can eh vabbè isaac la bravo dire e gira tondo ora devo vedere se c'è un come via via so qua si fa vedere l'inventario oh ok mi sa che dobbiamo saltare sul treno oh si mi sa di si mi sa di si eh oh ma eh però abbiamo perso il treno non lo so non lo so che si fa ah guarda guarda c'è una porta ecco vieni a due porta ah forse di qua eh guarda c'è il cosino meno male che sei fermato là oh guarda quattro posti oh che bello non sei contento isaac però ai finestrini stupidi finestrini sono oscurati intanto non so se quindi anche la cellula ok ok andiamo no forse era un attimo punto per salvare eh si si è un attimo punto per salvare eh si si è un attimo punto per salvare si dire di si facciamolo immediatamente allora ragazzi per questa parte è tutto noi ci sentiamo alla prossima parte un saluto da pruiz e isaac ciao ciao ciao